Allora, la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Questa frase sentita, risentita, abusata in questi giorni in particolare, letta, la usano tutti quando si inizia a parlare della guerra in Ucraina, di cui noi, come diceva già Ines, parleremo nel pomeriggio, nella sessione del pomeriggio, stamattina ci fermeremo sulla questione più generale. E' abusata questa frase, se ne è quasi perso il senso, insomma, come no, delle frasi che spesso si usano, non ci sono più le mezze stagioni, così via, che effettivamente poi hanno anche un loro fondamento di verità. Allora, questa frase tuttavia ha un suo significato preciso, è utile indagarlo, è tratta, è uno dei concetti diciamo che sono nel libro Von Krieg, o se si pronuncia così non lo so, comunque della guerra, che è un libro che è stato scritto in realtà non completato per quasi un quindicennio, a partire grosso modo da 1816, da un generale prussiano che ne capiva, insomma, di questioni di guerra, ma ne capiva anche di questioni di filosofia. Lui era uno studioso di Hegel e dal punto di vista militare aveva partecipato e diretto anche a diverse battaglie contro Napoleone, Napoleone, Napoleone il Grande, ovviamente Napoleone Primo. In questo senso non era un rivoluzionario, evidentemente. Se noi consideriamo che le guerre di Napoleone furono il prolungamento della rivoluzione francese, quindi erano dal punto di vista nostro, come marxisti, delle guerre progressive, d'accordo? Perché erano guerre contro i regimi reazionari d'Europa, già possiamo vedere che questo generale non era esattamente un campione di progressismo. Però cosa c'è di interessante nelle cose che scrive questo generale prussiano? Lui si contrapponeva con questo concetto che abbiamo citato, la guerra e la continuazione della politica con altri mezzi, a dei concetti che erano tipici della sua epoca, e in particolare dell'illuminismo, all'eredità di Kant. Kant aveva scritto, un ventennio prima, un libro per la pace perpetua. In generale le teorie dell'illuminismo sostenevano che la politica e il commercio fra i popoli fossero la negazione della guerra. La rivoluzione francese, nella sua fase più avanzata, invece proponeva un concetto differente e proponeva alcune innovazioni rispetto a queste teorie. E' noto che, insomma, furono Robespierre, Saint-Just, Danton e altri, questi ultimi due anche sul campo di battaglia, perché furono anche generali, a distinguere per primi tra guerre giuste e guerre ingiuste. Loro dissero, no, le guerre non sono tutte ingiuste. Le guerre di liberazione dagli oppressori sono guerre giuste. Le guerre ingiuste sono quelle dei despoti che opprimono dei popoli. E badate che furono loro fra i primi a escludere un concetto, che talvolta sentiamo ripetere anche da presunti marxisti, o come mi piace chiamarli, marxisti per equivoco, per cui la guerra sarebbe, la responsabilità della guerra sarebbe di chi ha sferrato il primo colpo. Cioè loro dicevano non è così. Badate, non erano marxisti, i giacobini, no? Non potevano esserlo. Marx non era ancora nato. Però già loro spiegavano, dicevano, che la guerra va analizzata dal punto di vista del conflitto politico che la precede. Per questo il problema non è chi ha sferrato il primo colpo. Le guerre della Francia rivoluzionaria contro la Vandea erano guerre progressive. Anche se a sferrare il primo colpo, in vari casi, furono appunto i generali rivoluzionari francesi, le truppe guidate da Saint-Just, eccetera. Von Klosevitz si inserisce un po' in questo percorso qua. Lui arriva dopo la rivoluzione francese, il generale prussiano addirittura guida alcune battaglie contro Napoleone, che era sul piano nazionale, secondo noi marxisti, reazionario perché aveva posto fine alla rivoluzione francese, con il direttorio, poi l'impero, ma era sul piano internazionale progressivo. Vedete come il marxismo riesce, a differenza di tanti marxisti presunti tali, a distinguere dentro a un processo le sue varie componenti. E quindi Von Klosevitz era generale che aveva combattuto contro le guerre progressive di Napoleone in Europa. Scrive questo libro perché era appunto uno studioso, era anche un esperto di questioni militari che insegnava nelle scuole di guerra prussiane e lui che cosa dice? Se si separa la guerra dalla politica e la si contrappone, come faceva, aveva fatto l'illuminismo, i testi che citavo prima, Kant e così via, resta solo la spiegazione dell'istinto umano, per cui la guerra alla fine che cos'è? Se è separata dalla politica, è, come si legge ancora oggi in molti manuali di storia, eccetera, in buona sostanza è dovuta alla cattiveria di questo o quell'altro despota. Analisi che vengono riproposte anche oggi, analisi psicologica. Si analizza la guerra dell'Ucraina vedendo quanto è più o meno matto Putin, eccetera, o la seconda guerra mondiale, la cattiveria e la follia, che ovviamente sono cose reali, diciamo era sicuramente un folle Hitler, cocaine o men, eccetera, però sono analisi che nulla hanno a che fare con l'analisi scientifica della storia. Von Clausewitz dice no, noi non possiamo, questo era il concetto di quella famosa frase, separare la politica che precede la guerra dalla guerra, né la politica che segue la guerra in tempo di pace. La guerra in questo senso è un mezzo della politica. La politica continua durante la guerra. La guerra e la politica, e qua vengono i suoi riferimenti hegeliani, sono parte di una totalità, di una totalità contraddittoria. Ecco che cosa scrive esattamente, vi cito solo un pezzetto del suo libro. Tutti sanno che le guerre scaturiscono soltanto dai rapporti politici fra i governi e fra i popoli, ma abitualmente le cose vengono presentate in modo da far credere che all'inizio della guerra questi rapporti cessino e sorgo una situazione assolutamente diversa, sottoposta soltanto a leggi sue proprie. Noi al contrario affermiamo che la guerra non è altro che la continuazione dei rapporti politici con l'intervento di altri mezzi militari, chiaramente, fucili, cannoni, che si usavano all'epoca. Il primo marxista a scoprire gli scritti di questo generale e a rifletterci è Engels. Engels, in una lettera particolare, dice a Marx sto leggendo gli scritti di questo von Closevitz, sono estremamente interessanti. Il tipo era un reazionario, dice qualcosa del genere, adesso riassumo con parole mie, ma era anche estremamente intelligente. Aveva una comprensione dialettica della guerra. Ti consiglio di leggere i suoi scritti. E poi ci sono altri scambi di lettere, in seguito anche Marx si mette a leggere questo generale prussiano, entrambi lo apprezzano e lo traducono, traducono i suoi concetti in concetti di classe. Traducono i suoi concetti in concetti di classe. In primo luogo, Marx e Engels rifiutano il pacifismo. Marx e Engels hanno fatto per decenni, tanto prima della prima internazionale come nella prima internazionale, una battaglia contro il pacifismo. Questa cosa potrà sorprendere. Poi vedremo perché e come i comunisti lottano per la pace attraverso la rivoluzione, ma non sono pacifisti. E in particolare si scontrarono i borghese degli anarchici, in particolare di Proudhon. E Marx cosa diceva? L'essenza del pacifismo, e per questo è sbagliato e noi lo rifiutiamo, è la rinuncia alla lotta. E quindi, inevitabilmente, oggettivamente, al di là delle migliori intenzioni, porta alla collaborazione di classe. Dunque, Marx e Engels distinguono le guerre ingiuste e ingiuste. E per guerre giuste intendono non soltanto le guerre civili. Guerra civile per noi non solo è giusta, è la nostra aspirazione, no? La guerra civile. Noi siamo rivoluzionari, pensiamo sia necessario fare la rivoluzione, pensiamo che la rivoluzione passi attraverso un processo che è quello dell'insurrezione della guerra civile. È noto a tutti, anche se magari non sempre lo si è letto, che Marx ha scritto un libro intitolato La guerra civile in Francia, che fa riferimento, in realtà non è un libro, è una raccolta di testi, e poi dentro i quali c'è una delle risoluzioni che lui scrive per la prima internazionale sulla comune di Parigi. Ne abbiamo parlato, mi ricordo se nella prima o nella seconda puntata di questo ciclo. Quindi distinguono guerre giuste e guerre ingiuste, ma non solo la guerra civile è giusta, ci sono anche alcune guerre militari per Marx e Engels che sono giuste. Quali sono? E qui ritorna questo Von Closovitz, la politica ritorna, la questione di classe dal punto di vista di Marx. Progressive sono le guerre dei popoli oppressi contro chi li opprima, anche laddove non ci sia direttamente coinvolta ancora la guerra civile, la guerra di classe. Progressive furono, come dicevo prima, le guerre dei Giacobini per difendere la rivoluzione francese, progressive furono le guerre napoleoniche contro l'aristocrazia feudale e reazionaria d'Europa. Ma una stessa guerra, dentro una stessa guerra, la valutazione dei massisti può anche cambiare di segno, dentro, all'interno della stessa guerra. Pensate alla guerra franco-prussiana, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della Comune di Parigi, fu il preludio della Comune di Parigi, 1870. Inizialmente per Marx e Engels e per la prima internazionale era una guerra fra governi borghesi, per cui dicono i proletari di entrambi i paesi, attenzione, che da una parte c'era Bismarck e dall'altra c'era Napoleone III, vi portano al macello. Una guerra fra governi borghesi, nata a partire da dispute, dinastiche, ma insomma questo era solo il caso Sbelli. Tuttavia quando nel corso della guerra Napoleone III viene sconfitto, fatto prigioniero e la guerra diventa una guerra di aggressione della Prussia e di Bismarck contro la Francia con obiettivi annessionistici, l'attivo di annettere la Sazia Lorena, quindi diventa una guerra di conquista e il carattere della guerra cambia. e Marx e Engels non sono per niente equidistanti, no, stanno dalla parte nella trincea della Francia contro la Prussia, a partire da questo momento. Quindi non erano pacifisti, distinguevano, analizzavano le guerre, Marx e Engels, e non è un caso che Engels, ne parlavamo nella prima lezione di questo ciclo, fosse chiamato amichevolmente dagli amici il generale, non solo perché si interessava di scritti militari, non solo perché ne ha prodotti in gran quantità e ancora oggi vengono studiati nelle accademie militari, pensate voi, non solo sono stati di estrema importanza per l'armata rossa, perché Trotsky che nulla sapeva di questioni militari, che come lui amava dire non aveva mai sparato un colpo in vita sua, si trovò a costruire con l'incombenza di dover costruire l'armata rossa un esercito di 5 milioni di uomini e si mise a studiare le cose militari, anche lui si mise a studiare von Closelitz e gli scritti di Engels, eccetera. Ma Engels era definito generale anche perché univa la teoria alla pratica, per così dire, quindi era stato sul campo di battaglia nel Palatinato, in varie battaglie, dove ha partecipato direttamente. Tutta questa tradizione di Marx e Engels, del marxismo sulla guerra, si viene a perdere con la morte di Marx, la morte di Engels, Marx muore nel 1883, Engels nel 1895 e con la seconda internazionale. La seconda internazionale, come ricorderete, ne parlavamo in una delle prime elezioni, nelle intenzioni di Engels doveva essere la internazionale marxista, la internazionale dei marxisti, basata sul programma marxista, doveva portare a compimento quello che si era iniziato con la prima internazionale grazie al passaggio della Comune di Parigi che aveva reso possibile, eccetera, eccetera, ne abbiamo già parlato. Tuttavia le cose andarono, come sappiamo, purtroppo un po' diversamente perché già negli ultimi anni di vita di Marx e in tutto il periodo degli ultimi anni della vita di Engels loro iniziano a combattere contro delle deviazioni del marxismo che ci sono all'interno del movimento che poi darà vita, dei partiti che poi daranno vita nel 1889 alla seconda internazionale. C'erano grandi incomprensioni. Se voi leggete le lettere di Marx e Engels che sono un testo come ricordava Trotsky in varie occasioni anche umanamente molto interessante, molto divertente, specie se lette come le possiamo leggere noi oggi nella loro versione originale e integrale. Dico in questa versione perché in realtà inizio secolo, all'inizio del Novecento furono pubblicate tutte tagliuzzate da Mehring perché diceva se lasciamo tutti i giudizi che loro davano dei vari dirigenti politici compresi dirigenti politici marxisti insomma qualcuno se la potrebbe avere a male perché è tutto un abbondare di A. Che asino, non ha capito niente e parlavano di Bebel, di Liebknecht, Liebknecht padre che erano i principali dirigenti del partito tedesco e di altri dicevano sciocco e così via usavano tutta una serie di espressioni parlando fra di loro ovviamente per dire questo qui veramente non ha capito niente di quello che stiamo dicendo di quello che stiamo facendo eccetera ed effettivamente è vero purtroppo e questo contribuì non poco specie dopo la morte di Engels a una deformazione del marxismo reso come una specie di catechismo eccetera e in particolare la incomprensione di alcuni elementi essenziali del marxismo tra cui questo la concezione della guerra tuttavia all'interno della seconda internazionale almeno dal punto di vista delle dichiarazioni la seconda internazionale era contro le guerre imperialiste e distingueva i diversi tipi di guerra ma per farla breve il 4 agosto del 1914 quindi una ventina d'anni dopo la morte di Engels quando i partiti della seconda internazionale già si erano sviluppati erano partiti con un'influenza di massa in particolare il partito tedesco ma non solo quando scoppia la prima guerra mondiale il 4 agosto del 1914 nel Parlamento tedesco da cui è diventata famosa questa data e poi è stata assunta a frase il 4 agosto del 1914 per dire la crisi la capitolazione della seconda internazionale il partito operaio la SPD il partito più importante il partito della seconda internazionale il partito tedesco vota i crediti di guerra cioè vota il bilancio finanziario militare della Germania entrata in guerra ma non solo lì in Francia Ghesd che era il principale diciamo dirigente del partito della sezione francese entra nel governo direttamente nel governo borghese Van der Velde che è belga che era presidente della internazionale entra nel governo belga impegnato in guerra in Germania i sindacati firmano un patto con la borghesia un patto sociale che dice fino a che dura la guerra ci impegniamo a non darvi fastidio in buona sostanza la cosa coglie talmente di sorpresa la sinistra della seconda internazionale tra cui Lenin che fatto spesso ricordato Lenin è convinto inizialmente che la coppia del Vorwas se si pronuncia così dell'Avanti insomma che era il giornale delle spede che dice che appunto hanno votato i criti di guerra eccetera era convinto fosse un falso fatto dagli agenti dei servizi del Kaiser del governo tedesco e la situazione coglie tutti alla sprovvista in particolare la sinistra appunto rivoluzionaria che via via si andava formando all'interno della seconda internazionale anche perché a tutti era noto che ci fossero all'interno dell'internazionale delle posizioni riformiste diciamo oggi noi definiremo socialdemocratic all'epoca tutti si chiamavano socialdemocratici poi cambiarono nome proprio per questo per distinguere i comunisti dai riformisti beh però si contava che la maggioranza dell'internazionale con il cosiddetto papà rosso Kauski reggesse e finora aveva retto fino al 14 aveva retto alle pressioni opportuniste eccetera così non è tutti capitolano in un modo in un altro alcuni girandoci un po' intorno con le parole come Kauski ma tutti capitolano tanto che Rosa Luxemburg che faceva parte della sinistra come Lenin dell'internazionale convoca una riunione per sostenere le posizioni dei comunisti contro la guerra imperialista e si presentano in sette a fare questa riunione il 3 dicembre del 1914 il suo compagno di lotta Carl Liebnet figlio del Liebnet che citavamo prima Willem che era stato dirigente ai tempi di Mars Engels da solo vota contro i crediti di guerra in Parlamento unico parlamentare della SPD a votare contro i crediti di guerra inizialmente anche lui si era stenuto per disciplina di partito ma insomma il 3 dicembre vota contro dopo poco non casualmente viene lui era parlamentare viene mandato al fronte Rosa Luxemburg e altri dirigenti della partito vengono incarcerati quelli che si oppongono alla guerra nel settembre del 1915 su impulso dei socialisti in particolare italiani di una parte dei socialisti italiani e svizzeri si tiene in Svizzera a Zimmerwald una conferenza che poi diventerà molto famosa si parlerà del movimento di Zimmerwald in cui si riunisce in buona sostanza quella parte minuscola della seconda internazionale che si oppone a sostenere i propri governi nella guerra imperialista con posizioni differenti che vanno da quella di Lenin che risulta in quel momento minoritario che è trasformare la guerra imperialista in guerra civile quindi diciamo in rivoluzione a posizioni che invece uscirono più verso un neutralismo un pacifismo di classe però erano talmente pochi che secondo la famosa battuta poi ripresa di Trotsky tutti gli internazionalisti del mondo stavano in quattro carrozze in quattro carrozze del treno diciamo per andare lì in Svizzera a fare questa conferenza il manifesto finale della conferenza è scritto da Trotsky è un manifesto di compromesso fra le differenti posizioni ma segna un primo stop rispetto alla capitolazione completa al social patriottismo del grosso della seconda internazionale successivamente alcuni mesi dopo nel febbraio del 16 si terrà sempre in Svizzera a Kiental una nuova conferenza che segnerà un ulteriore passo avanti delle posizioni diciamo dei rivoluzionari dentro a questo blocco diciamo con contrario che si opponeva alla guerra e segnerà il passaggio verso la necessità di costruire una nuova internazionale che poi sarà la terza che in realtà formalmente nascerà nel 1919 cioè due anni dopo la rivoluzione un anno e mezzo dopo marzo 19 dopo la rivoluzione d'ottobre ma che inizia in questo processo qui la terza internazionale o internazionale comunista nasce nel processo della lotta dei comunisti rivoluzionari contro la guerra borghese ma da posizioni non pacifiste quindi da posizioni marxiste Lenin che cosa dice sulla guerra abbiamo messo alcuni testi dentro l'opuscoletto che i compagni hanno ricevuto allora quando scoppia la guerra Lenin non cambia posizione tuttavia sviluppa le posizioni di Marsengas e del marxismo su queste questioni qua e su altre questioni lo fa in particolare in campo filosofico ne parleremo ne parlerà Fabiano nella quarta mi sembra puntata di questo ciclo nella prossima della questione filosofica qui acceno soltanto al fatto che Lenin c'è una diciamo così un salto profondo se non dal punto di vista politico-filosofico nel Lenin del prima della guerra e nel Lenin del dopo la guerra perché in mezzo ci sta il fatto che nel 1915 Esule in Svizzera si mette a studiare la filosofia in generale e in particolare Hegel e lì c'è una virata filosofica che avrà poi conseguenze politiche gigantesche gigantesche perché in realtà Lenin di fronte al fallimento della seconda internazionale vuole indagare i motivi non solo materiali quelli già li stava indagando erano l'aristocrazia operaia che si era formata questo strato dei partiti in particolare dei paesi imperialisti che aveva il strato della cassa operaia che godeva di alcuni privilegi per il fatto di essere parte di paesi che opprimevano altri i proletari di altri paesi ma cerca di anche individuare dove sia la tara teorica dentro la seconda internazionale che ha permesso l'esplosione dell'internazionale stessa e la cerca anche sul piano filosofico vedendo che erano state travisate le idee di Marx e di Engels su questo terreno e per farla breve qua perché non è il tema di oggi per quanto sia di estremo interesse la seconda internazionale era ormai influenzata da un determinismo tale per cui in qualche modo si sottovalutavano questa è la conseguenza politica le questioni delle rivendicazioni anche democratiche poi arriveremo sulla questione dell'autodeterminazione dei popoli eccetera in nome di un economicismo dell'idea falsa per cui il marxismo sarebbe l'analisi economica della società e sarebbe l'analisi per cui l'economia a sua volta ridotta semplicemente a un'astrazione governerebbe il mondo eccetera e tutto il resto sarebbe secondario adesso lo semplifico un po' ma insomma questa idea del riflesso del rapporto di riflesso fra soggetto oggetto si direbbe in termini filosofici che Lenin stesso aveva abbracciato precedentemente almeno dal punto di vista filosofico quando scrive ad esempio nel 1808-9 l'imperio criticismo lui l'abbandona con i suoi studi filosofici del 15 quando scrive i quaderni filosofici eccetera interessante notare che sempre lì mentre studiava Hegel la filosofia eccetera sapete che libro si mette a leggere si mette a leggere anche lui per la prima volta il libro di Von Clausewitz e vedete che insomma questo generale prussiano continua a tornare nella nostra vicenda prima lo scopre Engels lo passa a Marx poi lo legge lo legge Lenin e lo definisce il più dialettico tra gli autori che hanno scritto sulla guerra però prima di tornare alle riflessioni di Lenin su questo libro è utile dire che i frutti fecondi di questa riflessione di Lenin dal punto di vista politico sarà nel fatto che la gran parte dei suoi testi sull'autodeterminazione ne abbiamo messo un piccolo saggio nell'opuscolo che avete ricevuto dei suoi testi sulla prima guerra mondiale sono scritti in questo periodo qua in cui Lenin studia la filosofia studia Hegel studia Von Clausewitz il più hegeliano degli autori che ha scritto sulla guerra e nello stesso periodo inizia i lavori per scrivere quel suo libro importantissimo che è l'imperialismo fase suprema del capitalismo prima di tornare a Von Clausewitz penso sia utile seppure molto sinteticamente dire alcune cose sull'imperialismo allora che cos'è l'imperialismo per i marxisti ovviamente quando parliamo di imperialismo il riferimento non è alle politiche imperiali di espansione eccetera queste esistevano esistono da secoli non sono specificamente legate al capitalismo l'imperialismo per i marxisti non è nemmeno una politica a differenza di quanto aveva poi detto Kauski se non entro in tutto questo dibattito credo che lo affronteremo meglio nella quinta e ultima puntata quando parleremo un po' di intreccio fra le questioni politiche e economiche nel marxismo però cos'è che è importante dice Leni l'imperialismo appunto è uno stadio del capitalismo cioè una fase dello sviluppo e in particolare la fase attuale dello sviluppo del capitalismo non dipende dalla politica di questo o quel governo d'accordo è la stagione del capitalismo arrivato al suo livello attuale quando è che lui colloca agli inizi la nascita di questo tipo di imperialismo perché ripeto non sta parlando dell'imperialismo della Roma antica ma dell'imperialismo del capitalismo agli inizi grosso modo del novecento e in questo suo libro celebre è un libro piccolo si può leggere si può leggere anche abbastanza agevolmente è un libro divulgativo ne sono state avanzate molte critiche a questo libro perché conterebbe imprecisioni eccetera è un libro come tutti i libri di Lenin volutamente scritto per i lavoratori per i militanti Lenin non scriveva a differenza di molti presunti leninisti libri per gli intellettuali diciamo li scriveva per armare i lavoratori nella lotta contro il capitalismo lui riassume in cinque punti i connotati di questo imperialismo fase suprema ultima del capitalismo primo il grado di concentrazione della produzione del capitale è arrivato a un punto tale che si sono formati dei monopoli che sostituiscono l'era della libera concorrenza che era l'era diciamo che aveva preceduto appunto il novecento che era arrivata al suo appoggio al suo punto più alto a metà dell'ottocento l'era della libera concorrenza è sostituita per il grado di alta concentrazione della produzione del capitale dai l'era dei monopoli secondo punto cosa vuol dire questo che c'è uno sviluppo e una concentrazione tale dell'industria delle banche che porta a una fusione del capitale bancario col capitale industriale in quello che lui riprendendo definizione che avevano usato altri non abbiamo tempo per dilungarci non è che si inventa nulla legge i testi di altri il ferding ops eccetera comunque in quello che lui chiama il capitale finanziario che è la fusione fra questi due fra i due capitali cioè che cos'è concretamente un'unione tra le banche e le industrie e anche le imprese commerciali in cosa si concretizza tra l'altro si manifesta ad esempio nel fatto che i direttori delle banche entrano nei comitati dei consigli di amministrazione delle industrie e viceversa terzo elemento il peso crescente dell'esportazione dei capitali in relazione all'esportazione di merci cioè se l'esportazione di merci aveva contraddistinto ce la fase precedente del capitalismo era l'elemento principale ora l'elemento principale in questa nuova fase del capitalismo che lui definisce imperialista il peso crescente è l'esportazione di capitali perché succede questo perché l'accumulazione del capitale è arrivata a proporzioni tali talmente gigantesche da determinare in alcuni paesi un'eccedenza di capitali che a sua volta ha la base nella tendenza alla caduta del saggio di profitto di cui non vi parlerò ma ve ne parlerà Alberto sicuramente nella quinta e ultima puntata quarto elemento tutto questo porta alla spartizione del mondo tra associazioni monopolistiche internazionali di capitalisti e punto quinto alla ripartizione della terra fra le maggiori potenze capitalistiche che sono appunto i paesi imperialisti quindi ci troviamo che nel mondo ci sono due tipi sostanzialmente di paesi i paesi imperialisti e i paesi dipendenti cioè che sono dipendenti da cosa dai paesi imperialisti per esportare i capitali nei paesi dove i mercati sono meno saturi e minore il costo del lavoro e delle materie prime si producono quel fenomeno che porta alle colonie alla costituzione di colonie o anche di semicolonie e quindi abbiamo in qualche modo che così come per semplificare dentro la società noi abbiamo essenzialmente anche se non soltanto due classi la classe dei borghesi e la classe dei proletari così a livello politico internazionale abbiamo due classi di stati chiamiamole così i paesi imperialisti e i paesi dipendenti e qui entra la questione nazionale dal punto di vista dei comunisti per questo è veramente bizzarro leggere come stiamo leggendo in questo periodo chi sostiene che in epoca imperialista non si porrebbe più la questione dell'autodeterminazione dei paesi oppressi lo teorizza più o meno esplicitamente meno esplicitamente chi ad esempio dice ma lo vedremo oggi pomeriggio che di fatto non ci sono più guerre giuste perché sempre c'è un paese imperialista che si cela dietro una guerra eccetera eccetera in realtà tutta la teoria dell'imperialismo di Lenin porta esattamente all'opposto alla conclusione opposta cioè che il mondo tanto più dall'inizio del novecento e oggi è diviso fra paesi che opprimono e paesi che sono oppressi e questo che spiega perché i marxisti hanno una certa posizione sulla questione dell'autodeterminazione dei popoli e per questo i marxisti pensano che non tutte le guerre sono guerre reazionari eccetera eccetera chi non ha capito questo diciamo così non ha capito l'essenziale dell'leninismo per quanto possa ovviamente definirsi leninista perché è un titolo che non costa niente che ognuno si può di cui ognuno si può appropriare e torniamo ancora una volta e per l'ultima volta a questo von Kloseritz quindi Lenin lì in Svizzera si mette a studiare le storie della filosofia legge Aristotele legge Hegel e poi si butta su questi librone qua da scrive credo si pronunci prende degli estratti del testo in tedesco e poi li affianca con annotazioni in russo tutto questo lavoro qua lo porterà poi a scrivere sulla base di questi studi testi alcuni dei testi che abbiamo messo nell'opus con in particolare i più importanti sono il fallimento della seconda età nazionale il socialismo e la guerra e la guerra e la rivoluzione insieme a decine di altri articoli e qua riprende quel concetto lì che abbiamo insistentemente ripreso la guerra la continuazione della politica con altri mezzi e cioè durante la guerra i rivoluzionari non rinunciano all'indipendenza di classe come non vi rinunciavano prima della guerra Lenin muore nel gennaio del 1924 come sapete di un ictus e poi lì inizia il periodo della degenerazione stalinista eccetera su cui non potremmo dire niente oggi per motivi di tempo a chi passerà il compito di sviluppare dopo questo importante sviluppo che ha fatto Lenin la questione della posizione dei marxisti sulla guerra sull'autodeterminazione eccetera a Trotsky Trotsky lo applica in varie occasioni e sviluppa le posizioni di Lenin che a sua volta aveva sviluppato quelle di Marx perché il marxismo appunto non è un insieme ossificato di dogmi come qualcuno pensa per cui è tutto lì il libro delle ricette diciamo grosso modo la carbonara si fa sempre nello stesso modo tiri fuori la cosa sono varie lo so scuole però adesso non vorrei aprire un dibattito sulla carbonara però per dire ci sono delle ricette sono grosso modo ci sono una serie di ingredienti eccetera il marxismo è una cosa diversa non è un ricettario il marxismo è uno strumento di analisi di classe in funzione della definizione di un programma di classe cos'è un programma di classe? è un programma che porta alla rivoluzione socialista la conquista del potere per via rivoluzionaria questo è in essenza il marxismo quindi Trotsky riprende questi concetti e li applica già a partire dalle guerre che si trova ad affrontare nella sua vita Trotsky muore sapete viene ammazzato da un sicario stalinista nell'agosto del 1940 quindi quale guerra fa in tempo a vedere solo l'inizio della seconda guerra mondiale ma prima della seconda guerra mondiale ci sono una serie di guerre che anticipano e preparano in qualche modo che sono il preludio l'anticamera della seconda guerra mondiale in particolare di grande importanza la guerra sino-giapponese la guerra cioè fra la Cina e il Giappone o meglio la guerra di aggressione del Giappone imperialista alla Cina 1937 luglio del 37 il Giappone invade il nord della Cina si apre un grande dibattito nel movimento operaio qual è la posizione che devono prendere i comunisti anche che fra i trotskisti si apre un dibattito fra i trotskisti cinesi perché c'era una componente importante della costituenda quarta internazionale perché la quarta internazionale formalmente nasce nel settembre del 38 ma insomma già da dopo il 33 cioè da dopo l'avvento di Hitler in Germania si erano avviati una serie di passi poi hanno vari nomi adesso qui non ci torno movimento per la quarta internazionale che porteranno poi nel 38 alla fondazione della quarta quindi in Cina che cosa dicono i trotskisti che sono perseguitati dagli stalinisti e dai nazionalisti del Kuomintang Kuomintang era questo partito nazionalista diretto da Chiang Kai-shek che aveva represso violentemente duramente la precedente rivoluzione cinese in particolare nel periodo 25 e 27 e che Stalin e l'internazionale stalinizzata riconoscevano come un amico questo faceva parte della teoria tappista che lo stalinismo introduce nel marxismo la teoria per cui la questione nazionale doveva essere risolta in alleanza subalterna alla borghesia nazionale Chiang Kai-shek e il Kuomintang rappresentavano la borghesia nazionale cinese i comunisti dovevano allearsi con la borghesia nazionale questa era la teoria di Stalin ovviamente e addirittura diciamo sciogliere il partito dentro al Kuomintang a questo partito nazionalista e addirittura eleggere Chiang Kai-shek il capo di questo partito come membro onorario dell'internazionale comunista a questo arriva lo stalinismo mentre Trotsky li metteva in guarda dice guarda andiamo verso il disastro il disastro che poi ci fu perché i nazionalisti guidati da Chiang Kai-shek massacrano la comune di Canton la comune di Shanghai le insurrezioni che ci sono in quel periodo dei contadini del proletariato cinese detto questo non lo faccio tanto lunga sulla Cina c'è un grande dibattito all'interno dei Trotsky cinesi in particolare si delineano due posizioni una che è quella di io li pronuncio come ci riesco poi se qui c'è qualche sinologo potrà correggere eventualmente di Peng Shuzze e Li Fu Zhen che sono la posizione maggioritaria loro con Trotsky dicono è una guerra giusta dalla parte della Cina che si difende dal Giappone bisogna appoggiare questa guerra della Cina contro il Giappone senza abbandonare per un solo minuto la nostra indipendenza politica nei confronti di Chiang Kai-shek che dirigeva la guerra perché dirigeva diciamo la Cina in quel momento contro il Giappone c'è una posizione minoritarica che è quella di Chen Tuchu che invece dice sostanzialmente questa guerra anticipa una nuova che sarà una guerra fra le democrazie e il fascismo e propone nei fatti di sostenere anche politicamente la borghesia diciamo cinese quindi non solo militarmente e a livello internazionale di allearsi con i cosiddetti imperialismi democratici eccetera sospendendo la lotta di classe la vera emergenza è la battaglia contro il fascismo quello che poi sentiremo ripetere infinite volte nella storia del movimento operaio questa posizione minoritaria poi alcuni di questi qui romperanno con la quarta internazionale eccetera come vedete non è molto diversa dalle conclusioni a cui era arrivato lo stalinismo perché lo stalinismo diceva la stessa cosa cioè diceva e questo è il crimine principale secondo Li Fugen cioè secondo il dirigente più vicino al Trotsky in Cina il crimine dello stalinismo non sta nel fatto di sostenere la guerra della Cina contro il Giappone il crimine sta nel fatto di farlo abbandonando l'indipendenza politica dei comunisti da Shanghai Sheikh cioè dai nazionalisti borghesi dalla borghesia nazionale cinese Trotsky scrive un testo importante vari testi ovviamente su tutta questa vicenda uno importante che per la prima volta abbiamo tradotto in italiano sarà pubblicato a breve sul nostro sito e poi nella nostra rivista e ribadisce questi concetti dice noi stiamo con la Cina in piena indipendenza di classe stiamo nel campo militare di Shanghai Sheikh e del Comitano cioè dei nazionalisti sotto il comando di Shanghai Sheikh guardate poi oggi pomeriggio ne parleremo di quelli che dice ah ma come partecipiamo alla guerra ma se la guerra la dirige poi vediamo quanto è fascista non fascista cosa la Zelensky eccetera lì sotto il comando di Shanghai stiamo parlando nel 37 dopo che Shanghai era stato grande massacratore dei comunisti eccetera eccetera e Trotsky dice sì finché non siamo in grado di fare diversamente sì noi stiamo sotto il comando militare di Shanghai Sheikh ma e qui sta la grande differenza con gli stalinisti in piena indipendenza di classe non illudendo le masse che la questione dell'autodeterminazione nazionale la questione nazionale possa essere risolta dalla borghesia nazionale cinese che solo il proletariato la può risolvere e qui entra tutto il concetto della rivoluzione permanente cioè solo la dittatura del proletariato può portare a termine i compiti democratici un compito democratico per eccellenza è quello dell'indipendenza nazionale no? solo la dittatura del proletariato per questo noi stiamo nel campo militare di Shanghai Sheikh appoggiamo per così dire riprendendo la famosa formula di Lenin nel 17 il fucile sulla spalla di Shanghai Sheikh e dopo aver liquidato diciamo la invasione giapponese rivolteremo il fucile contro Shanghai Sheikh per fare la rivoluzione socialista nella conferenza di fondazione della quarta internazionale del 38 si vota una risoluzione appunto scritta da Liffugène che condivideva le posizioni di Trotsky che ribadisce esattamente questo genere di posizioni che vi ho riassunto Trotsky si trova a affrontare anche altre guerre ad esempio la guerra in Spagna e che cosa dice rispetto alla guerra che combina diciamo la guerra civile diciamo contro i fascisti di Franco cosa dice Trotsky sulla guerra spagnola dice noi dobbiamo essere i migliori soldati contro i fascisti punto 1 punto 2 nessuna questo non implica alcuna alleanza politica con la borghesia spagnola punto 3 noi difendiamo gli spazi democratico borghesi fino a quando non siamo in grado di rovesciare la democrazia borghese e quindi difendiamo gli spazi della democrazia borghese contro il fascismo perché per noi non sono lo stesso perché il fascismo è la peste bruna che direttamente va all'attacco dell'organizzazione del movimento operaio brucia le sedie ammazza i comunisti mette fuori leggi e i sindacati quindi non è la stessa cosa per noi comunisti attuare sotto un regime fascisto o sotto un regime parlamentare che comunque è di democrazia borghese entrambi fanno parte di uno stato borghese però c'è una differenza di non poco contro nella nostra situazione per questo noi difendiamo che cosa non la democrazia borghese noi difendiamo gli spazi democratici dentro la democrazia fasulla la democrazia borghese che fanno una democrazia fasulla che vogliamo sostituire con la dittatura proletariato che vogliamo sostituire con la democrazia proletaria ma che tuttavia appunto potremo sostituirla solo se avremo la possibilità di attuare liberamente eccetera questo combattiamo contro il fascismo difendiamo gli spazi eccetera battiamo i fascisti e poi anche lì gireremo i fucili contro la borghesia cosiddetta antifascista che ha combattuto i fascisti per fare la rivoluzione socialista seconda guerra mondiale Trotsky come vi ho detto muore nell'agosto del 40 quindi è fra i primi o forse uno dei pochissimi grandi intellettuali grandi dirigenti politici a vedere con largo anticipo l'arrivo della seconda guerra mondiale non ha tempo per viverla tutta se non il suo inizio qual è la lettura che dà Trotsky della seconda guerra mondiale allora in primo luogo ricordiamo che la lettura prevalente all'epoca con l'eccezione dei trotschisti e prevalente ancora oggi se ci pensate con l'eccezione dei trotschisti per lo meno dei trotschisti conseguenti è che la seconda guerra mondiale sarebbe stato uno scontro fra regimi uno scontro fra la democrazia cosiddetta adesso non si aggiunge borghese perché la si riconosce come una democrazia assoluta rappresentata dagli angolo americani dagli alleati e il fascismo rappresentato da Hitler Mussolini eccetera in realtà chi studia la vicenda della seconda guerra mondiale sa che questa ricostruzione è falsa anche non solo dal punto di vista marxista ma dal punto di vista dei fatti perché perché come già aveva detto Trotsky potremmo trovare i fascisti da una parte e dall'altra qui è uno scontro fra due blocchi imperialisti tanto che infatti ci furono prevalentemente furono tutti da una parte i fascisti e tutti dall'altra parte quelli che sostenevano un regime di falsa democrazia borghese eccetera ma non totalmente come vedremo poi ad esempio con l'esempio della Grecia e di altri esempi ma la lettura prevalente era questa da una parte il fascismo dall'altra la democrazia e quindi cosa deve fare il movimento operaio secondo gli stalinisti accodarsi alla borghesia democratica accodarsi all'imperialismo cosiddetto democratico per combattere l'imperialismo fascista di Hitler e Mussolini eccetera eccetera fino alla spartizione del mondo nelle tre conferenze che si fanno fra Roosevelt Churchill e Stalin per dividere il mondo in zone di influenza eccetera eccetera Trosky nega questa lettura cioè Trosky dice non è una guerra fra fascismo e la democrazia è una guerra fra due blocchi imperialisti per la spartizione del mondo e qui torniamo a quelle famose definizioni di Lenin sull'imperialismo tuttavia questo è importante questo tuttavia perché chi non ha capito questo oggi si trova sprovvisto e disarmato di fronte ad esempio alla guerra in Ucraina dentro la guerra agiscono e interagiscono anche altri elementi e quindi c'è ad esempio la questione del fascismo che noi non sottovalutiamo d'accordo quindi e c'è la questione dell'oppressione di alcuni paesi di alcuni popoli c'è la questione delle colonie delle neocolonie eccetera tutto questo interagisce all'interno della guerra quindi che cosa devono fare gli evoluzionari secondo presunti Troschisti o Troschisti per equivoco la ricetta è quella lì apri il libro pagina tale che cosa prevede guerra interimperialista i rivoluzionari ne stanno fuori Troschi non ha mai detto una cosa del genere perché Troschi come Lenin come Marx aveva studiato von Klos e che cosa dice dipende dipende dalle circostanze noi siamo in alcune situazioni disfattisti cioè lottiamo contro il nostro imperialismo in altre siamo difensisti cioè lottiamo a difesa di un popolo aggredito di un paese oppresso non riteniamo superfluo lottare contro il fascismo non pensiamo che ci si possa astenere da questo solo perché il fascismo fa parte come la democrazia parlamentare sono regimi differenti ma di uno stesso stato borghese di un unico sistema sì è una parziale verità ma non noi non ci asteniamo dalla lotta contro il fascismo eccetera e quindi cosa dice Trotsky dice è essenzialmente ma non soltanto una guerra interimperialistica è falsa la distinzione fra chi la presenta come una guerra di regimi e dice noi possiamo combattere il fascismo in piena indipendenza di classe dalla borghesia dall'imperialismo cosiddetto democratico eccetera il testo fondamentale dei Trotskisti sulla guerra pensate la capacità di previsione dei Trotsky sulla guerra che si stava avvicinando è del 1934 il titolo è La guerra è la quarta internazionale i compagni che lo vogliono leggere lo possono leggere in una traduzione italiana fatta da Fabiana Stefanoni su Trotskismo oggi numero 1 scaricabile peraltro anche in pdf gratuito dal sito quindi si può leggere questo testo fondamentale e lì vedranno scopriranno i compagni che non hanno ancora letto che Trotsky vede varie guerre possibili questa idea per cui nell'epoca dell'imperialismo sono scomparsi le guerre nazionali le guerre progressive eccetera non appartiene a Trotsky e Trotskisti qual è la posizione dei Trotskisti durante la seconda guerra mondiale dopo anche la morte di Trotsky la posizione non è stensionista rispetto alla battaglia contro il fascismo ci sono delle minoranze stensioniste dentro il movimento Trotskista che poi lo romperanno dopo poco con il Trotskismo ad esempio quella di Barta in Francia che poi diciamo in una forma o in un'altra vera vita la organizzazione a partire dalla sua posizione di Luttuvrier che tuttora c'è la posizione di Grandiso Muniz in Spagna eccetera che sono contro lo stare nei movimenti della resistenza contro i fascisti perché dicono a noi che ci interessa qui è una guerra diciamo una lotta fra imperialismi quindi noi stiamo alla finestra la stessa posizione che avevano assunto i bordichisti i piccoli gruppi bordichisti invece la posizione dei Trotskisti è differente c'è una risoluzione importante del dicembre del 1943 del segretariato europeo della Quarta Internazionale che dice noi dobbiamo partecipare ai movimenti della resistenza però e qui sta la differenza con gli stalinisti dobbiamo parteciparvi non per accodare la classe operaia alla borghesia presuntamente antifascista ma per combattere i fascisti e per poi fare i conti con la borghesia cosiddetta antifascista che è diventata antifascista all'ultimo minuto che ha fatto come in Italia per vent'anni affari d'oro con i fascisti eccetera eccetera quindi noi vogliamo liquidare sia il fascismo che la borghesia in un processo di rivoluzione permanente risoluzione del dicembre 43 della Quarta Internazionale non è che scrivono soltanto i truschisti lo fanno concretamente in Belgio la sezione belga della Quarta Internazionale diretta da Abraham León che come si capisce dal nome era ebreo organizzano e partecipano alla lotta contro gli occupanti per costruire una direzione delle lotte rivoluzionarie Abraham León in particolare sarà arrestato poi dalla Gestapo finirà ad Auschwitz dove morirà in Francia si costituisce un maquis truschista un gruppo partigiano truschista nell'alta loira con tutte le difficoltà che lotteranno nell'alta loira con tutte le difficoltà del caso nel senso che gli stalinisti sparavano non solo sui fascisti ma anche su di noi cioè anche sui truschisti anche se in teoria stavano in teoria lottando tutti quanti contro i fascisti in Germania i truschisti animano una cellula nella Wehrmacht non nella fanteria nell'esercito tedesco pubblicano un giornale clandestino dentro alla Wehrmacht in Jugoslavia partecipa alla lotta di resistenza per quanto già nel 1941 Tito aveva ucciso la gran parte dei truschisti jugoslavi uccide in particolare Slobo Dan Markulic che era un giovane dirigente comunista passato con i truschisti e a Belgrado uccidono decine di altri truschisti gli stalinisti prima ancora dei fascisti in Grecia i truschisti partecipano la resistenza ne parlerò fra poco di questa vicenda greca che è interessante e oltre 600 truschisti sono uccisi non dai fascisti ma dai partigiani stalinisti in Italia succede la stessa cosa non solo con i truschisti ma anche contro chi è in odore di truschismo e quindi chi sarebbe in odore di truschismo quelli che dicono noi vogliamo partecipare alla lotta contro i fascisti e contro l'occupazione parziale dell'Italia da parte dei fascisti tedeschi quindi sia contro Italia che contro Mussolini ma in piena indipendenza dalla borghesia per fare la rivoluzione socialista eccetera eccetera e si trova incontro non solo i fascisti si trova incontro anche i partigiani stalinisti la cosa che avviene ad esempio con l'uccisione del dirigente principale di Stella Rossa questo movimento partigiano che si costituisce a Torino con l'uccisione di molti dirigenti e militanti del movimento comunista d'Italia o bandiera rossa dal nome del giornale che pubblicavano a Roma e nel Lazio attivo in particolare a Roma e nel Lazio e che ha avuto durante la strage delle forze ardeatine più morti dei partigiani stalinisti per intenderci tanto per avere l'idea di come fosse un gruppo molto attivo che arriva a raggruppare diverse migliaia di combattenti è in odore di troschismo in realtà i troschisti ridentrano una minoranza molti anzi rivendicavano Stalin pensando che Togliatti fosse traditore e che Togliatti fosse arrivato in Italia tradendo il messaggio di Stalin di fare la rivoluzione socialista non sapevano che la svolta di Salerno era stata decisa da Stalin a Mosca eccetera però diciamo storia interessante magari ne parleremo quando parleremo del 25 aprile quindi questo succede con i troschisti durante la seconda guerra mondiale non era una guerra di regimi basti vedere cosa è successo in Grecia lo cito solo velocemente molto interessante quando le truppe tedesche sono sconfitte inizia la truppe di occupazione tedesca inizia il processo rivoluzionario perché anche lì gli operai i lavoratori dicono noi non vogliamo liberarci soltanto dai occupanti e dai fascisti vogliamo fare i conti con la borghesia Churchill che sarebbe rappresentante in quel momento della cosiddetta democrazia antifascista dirige personalmente la repressione per schiacciare quella che in Parlamento nel Parlamento inglese definirà come una ipotetica vittoria del troschismo in Grecia lui ne parla così perché era uno che conosceva le cose e sapeva che il pericolo non erano i stalinisti erano i troschisti perché gli stalinisti non volevano portare la guerra antifascista fino alle sue logiche conseguenze conseguenze e quindi sostiene il ritorno della dittatura in Grecia come si vede c'era ben poco di battaglia antifascista nelle sue memorie Churchill commenta Stalin aderì strettamente e lealmente all'accordo di ottobre con noi e durante tutte le lunghe settimane della lotta contro i comunisti nelle vie di Atene non uscì una sola parola di rimprovero dalla Prava e fu un accordo totale diciamo quello fra Stalin e Churchill che faceva parte poi nello stesso periodo della spartizione del mondo eccetera il partito comunista greco si impegnò in prima fila nell'assassinare troschisti e militanti che si opponevano a restaurare la dittatura filobritannica la stessa cosa è successa in Italia insomma non è oggetto della discussione di oggi dove erano pronti a sostenere Badoglio il re la monarchia e tutto quanto e dove le presunte truppe delle democrazie occidentali si attardavano molto perché sapete che dopo lo sbarco in Sicilia ci hanno messo quasi un anno prima di arrivare a liberare fra virgolette il sud Roma eccetera perché perché in realtà lasciarono fare volevano lasciar fare un po' di lavoro sporco i fascisti e i nazisti che liberassero un po' da questa teppa dei partigiani e nel frattempo guarda caso bombardavano a Roma in particolare i quartieri operai San Lorenzo eccetera dove c'erano le direzioni della resistenza quindi la presentare la guerra la seconda guerra mondiale come una guerra della democrazia contro il fascismo è un falso totale al di là del fatto che durante tutta la seconda guerra mondiale continuarono gli scambi diciamo gli affari fra l'imperialismo fra i capitalisti americani quelli tedeschi una gran parte dei mezzi militari che usava Hitler erano di produzione della Ford eccetera ci servono molte cose interessanti da raccontare su come anche durante la guerra come bene aveva capito questo von Klosewitz continua la stessa politica anche per la borghesia cioè i suoi affari eccetera eccetera anzi la guerra è la sua continuazione eccetera alcune prime conclusioni sulla guerra i massisti non sono pacifisti conclusione numero uno anche se vogliono un mondo senza guerra sì ma per guadagnare un mondo senza guerra dobbiamo porre fine al sistema che genera le guerre altrimenti è pura stazione non è casuale che Rosa Luxemburg e Carl Ibrahim chiamino il loro primo gruppo e poi così saranno ricordati come spartacisti spartacisti o spartachisti era riferimento a questo grande generale dell'antichità spartaco che un qualche decina ad anni prima della cosiddetta era di Cristo a partire da un gruppo di 50 soldati costruisce un'armata di 100.000 no questo figura straordinaria probabilmente bulgaro non sappiamo per certo Mas diceva il più grande dei generali il più grande dei generali commentava Engels altro che quello stupidotto di Garibaldi questo sì che era un grande generale vicenda bellissima e Rosalux prendono il nome per il loro partito loro che lottavano contro la guerra dal nome di un generale un grande generale perché perché certo era una guerra giusta era la guerra dello schiavo simbolizzava la guerra dello schiavo contro Roma schiavista eccetera quindi le guerre sì ci sono le guerre giuste sono la guerra civile ma non solo le guerre di liberazione nazionale in cui noi stiamo con un'indipendenza di classe nel campo militare del paese oppresso per costruire la direzione per poi rovesciare anche o per prendere in mano anche militarmente laddove sia possibile la direzione della lotta due falsi argomenti concludo che vengono usati spesso il primo dice ma se e lo vedremo ancora oggi come dice parlando dell'Ucraina ma se interviene l'imperialismo da un lato di una guerra di questo tipo qua e vedremo proprio il caso dell'Ucraina cosa devono fare i rivoluzionari devono stare fuori perché altrimenti quella è una guerra per interposta persona in cui in realtà sono gli imperialismi che si scontrano fra di loro e infatti qualcuno dice che dietro Zelensky c'è l'imperialismo americano quindi nei fatti secondo appunto questo uso o abuso del sillogismo nei fatti è una guerra fra gli Stati Uniti e la Russia e quindi perché noi dovremmo schierarci con la resistenza ucraina eccetera non voglio entrare qua stamattina sulla cosa ne parlo oggi solo per farvi un esempio concreto è un argomento vecchissimo questo qua lo stesso che usavano i bordichisti perché ne dobbiamo fare la lotta contro Mussolini è un argomento vecchissimo non ha niente a che fare con l'eninismo va da sé cosa dice l'enin nella rivoluzione socialista il diritto delle nazioni e l'autodecisione è una delle tante frasi se ne potrebbero trovare a milioni ma è che sono andato a pescare proprio quella lì quindi chi sostiene di essere leninista e per essere leninista uno dovrebbe aver letto almeno qualcosina di Lenin se non l'altro magari per sentito dire dovrebbe conoscere queste frasi il fatto che la lotta per la libertà nazionale scrive Lenin contro una potenza imperialista può essere utilizzata in certe condizioni da un'altra grande potenza per i suoi scopi ugualmente imperialisti non può costringere la socialdemocrazia cioè all'epoca erano i rivoluzionari i comunisti a rinunciare al riconoscimento del diritto di autodecisione delle nazioni come Lenin dice non è così la cosa anche perché come vedremo poi se uno va a cercare un caso in cui non interviene in uno dei due campi un settore dell'imperialismo dovrà cercare a lungo non ne troverà mai non ne troverà mai e quindi la conclusione è che se la premessa fosse corretta e cioè che se interviene l'imperialismo i comunisti ne stanno fuori basta vuol dire che non esiste più la questione nazionale infatti qualcuno arriva a dirlo i borghisti eccetera poi più coerenti insomma dicono in epoca imperialista questa questione qua non si pone più non si pone più però questo ha qualcosa a che fare con quello che ha scritto Lenin nel libro dell'imperialismo tutto il libro dell'imperialismo cerca di dimostrare che il mondo è diviso fra paesi oppressi e paesi che opprimano e che è compito dei comunisti inserirsi in questa lotta qua e usarla come grimaldello in molti casi per far scoppiare un processo rivoluzionario eccetera seconda obiezione che viene fatta è al di là che intervenga o no l'imperialismo se la direzione del movimento del paese oppresso che lotta contro il paese oppressore è una direzione borghese i comunisti devono stare fuori interessante anche questo come ragionamento se ci pensate ma anche molto assurdo in realtà anche in questo caso è quasi impossibile che succede che succede il contrario ed è molto raro è molto difficile per quale motivo perché la direzione rivoluzionaria e comunista non cade dal cielo né dal pero deve essere costruita e quindi se uno pone come premessa che se non c'è la direzione rivoluzionaria noi non interveniamo nel movimento e il problema è che la direzione rivoluzionaria non si costruirà mai perché la direzione rivoluzionaria si costruisce se i rivoluzionari intervengono nella lotta quindi la conclusione è una conclusione profondamente riazionaria di questo genere di ragionamento ma voi provate a traslare questo ragionamento qua in un altro ambito portatelo nell'ambito ad esempio di una lotta sindacale il ragionamento quale sarebbe se la direzione del sindacato non è rivoluzionaria noi non partecipiamo allo sciopero è una conclusione da crumirico cosa fanno invece i comunisti certo che partecipano allo sciopero anche se la direzione non è rivoluzionaria per costruire dentro a quella lotta la direzione rivoluzionaria che non c'è ma così dentro il movimento contro la guerra così nel movimento contro la distruzione dell'ambiente eccetera cioè se la premessa fosse io entro in quel movimento solo se la direzione è nostra è il problema che non la dirigeremo mai quella lotta per questo è un assurdo un cortocircuito una cosa che non ha niente a che fare con il marxismo con il leninismo sono delle sciocchezze colossali eccetera che però vengono riproposte questa sarà cosa grave oggi come la quintessenza del leninismo eccetera qui concludo la parte sulla guerra molto più brevemente vado alla seconda parte diciamo di queste tre oggi ci occuperemo come detto dell'Ucraina per dire qualche cosa sulla questione dell'autodeterminazione in parte l'abbiamo già attorcata allora quando parliamo di autodeterminazione come marxisti noi parliamo di autodeterminazione dei popoli oppressi d'accordo quindi dei paesi coloniali semicoloniali in qualche modo dipendenti non parliamo dell'autodeterminazione della padania diciamo che oltre a non esistere diciamo non è sicuramente oppressa ma al limite opprime eccetera per me non esiste la padania invenzione diciamo della cosa lì con le ampolline così via le semicolonie sono la maggior parte dei paesi del mondo cioè i paesi dipendenti in forma indiretta con un loro governo ma dipendenti economicamente eccetera sono la stragrande maggioranza ve ne cito uno che può essere di un qualche interesse per la discussione che facciamo oggi l'Ucraina ci sono tra l'altro ancora anche le colonie perché non è che sono scomparse anche oggi abbiamo solo i neocolonieri ma abbiamo ancora anche le colonie una buona parte dei paesi dell'Africa continuano a essere colonie in particolare della Francia ma non solo con truppe militari governi fantoccio diciamo governi regimi militari bonapartisti eccetera c'è la questione dell'oppressione delle nazionalità senza stato ad esempio della Catalogna dei paesi baschi della Galizia dell'Irlanda della Scozia del Galles c'è l'oppressione delle minoranze nazionali pensiamo negli Stati Uniti ai neri ai latinos c'è l'oppressione degli immigrati in Europa sono distinzioni importanti che vanno fatte diceva Lenin quelle fra il nazionalismo dei paesi che opprimono e il nazionalismo dei paesi che sono oppressi noi distinguiamo fra i due nazionalismi questo è il punto di partenza piccolo passo indietro Marx e Engels perché Lenin sviluppa queste posizioni avete visto abbiamo messo alcuni test lì nell'opuscolo a partire da che cosa dall'elaborazione di Marx e Engels Marx e Engels che non sono nati come Marx e Engels anche se si chiamavano così diciamo ma non sono nati già avendo in mente il marxismo ma l'hanno conosciuto costruito in un percorso di lotta insieme a tanti altri inizialmente avevano delle posizioni diverse ad esempio Marx e Engels se voi guardate quasi fino al manifesto e anche nel manifesto ci sono allusioni di questo tipo pensavano che ci fosse in qualche modo un ruolo civilizzatore dei paesi capitalisti sui paesi arretrati ovviamente riconoscevano i crimini del colonialismo d'accordo però dicevano in qualche modo da un prezzo da pagare per la civilizzazione della barbarie e modificarono profondamente questa posizione soltanto a partire dagli anni 50 dell'ottocento cioè dopo aver scritto il manifesto quando ad esempio sostenero la lotta dei se poi in India contro l'Inghilterra sostenero nella seconda guerra dell'oppio la rivolta dei cinesi la rivolta cinese definiscono i qui il ruolo dell'Inghilterra come un ruolo che in realtà non favorisce lo sviluppo del paese dominato ma lo inibisce e infatti parlano di un ruolo vandalico dell'Inghilterra guardate prima non lo facevano a un certo punto dicono qui altro che quello che non è che aiuta a sviluppare i paesi non sviluppati no inibisce perché rapina quei paesi rapina le sue risorse eccetera eccetera quindi ha un ruolo vandalico dice la Gran Bretagna in questi paesi qua il passaggio decisivo tuttavia delle posizioni di Marx e Engels su questo tema avviene sull'Irlanda nel 1867 Marx scrive in una lettera a Engels poi elaborerà molti testi su questo tema per molto tempo ho pensato che la rivoluzione sarebbe partita in Inghilterra e avrebbe poi permesso la liberazione degli irlandesi ora penso esattamente il contrario cioè penso che non sia possibile un'emancipazione del proletariato inglese se il proletariato inglese è parte insieme al suo paese della dominazione sulla Irlanda perché perché il capitalismo inglese si regge solo dividendo e contrapponendo i proletari irlandesi e quelli inglesi e così riassunse il concetto un popolo che ne opprime un altro non può liberare se stesso e quindi dice dove sta la chiave della rivoluzione in Gran Bretagna in Irlanda è da lì che parte che può partire la rivoluzione nella guerra civile americana del 61-65 aggiunge sta dalla parte come è noto del nord contro il sud schiavista ma fa una battaglia lì dentro contro le posizioni dei nordisti che in tutta una prima fase non ponevano in realtà in discussione la schiavitù e Marx dice finché il proletariato del nord accetta la schiavitù non può liberarsi a sua volta e nel capitale riassumerà poi così con una famosa frase questo concetto i lavoratori bianchi non possono emanciparsi finché sono oppressi i neri così come tutte le altre oppressioni che dividono la classe l'oppressione delle donne l'oppressione maschilista che opprime le donne l'oppressione degli LGBT eccetera ovviamente Marx non parla di quest'ultima tuttavia rientra nello stesso tipo di ragionamento la seconda internazionale come vi dicevo assume tutti altri criteri di tipo deterministico eccetera e per cui riprende la prima posizione di Marx e quindi arriva in alcuni casi a vedere il colonialismo come un fatto di sviluppo dei paesi dipendenti al congresso di Stoccardo del 1907 una maggioranza della commissione in commissione del congresso della seconda internazionale approva una risoluzione una bozza di risoluzione che vede nel colonialismo un'opera civilizzatrice poi fortunatamente nell'insieme del congresso la risoluzione era espinta e viene approvata una posizione proposta dal centro di Kauski eccetera però tanto per dire questo era il tipo di dibattito Lenin riprende tutta questa elaborazione nella polemica contro Bucari in altri settori del paese del paese contro la Rosa Luxemburg scrive quei testi che abbiamo messo in allo fuscolo che non provo a riassumere qua che sono una lettura veramente illuminante su tutti questi dibattiti e dice che in cosa consiste l'autodeterminazione autodeterminazione lui dice o forse è meglio chiamarla in termini più precisi autodecisione è il diritto di separarsi è questo alla fine è un diritto democratico delle nazioni oppresse e senza Stato e noi lo sosteniamo assolutamente questo non significa che noi siamo sempre in ogni caso favorevoli alla separazione e fa l'esempio famoso del divorzio dice il diritto al divorzio non significa che in ogni caso si debba divorziare è un diritto potenziale ma non è che necessariamente il divorzio sia in ogni caso la cosa migliore chi è che lo decide se è la cosa migliore o no si suppone i membri in questo caso della coppia quale sia la cosa migliore nel caso dei popoli chi lo decide i popoli esattamente se vogliono separarsi oppure no perché noi però sosteniamo l'autodecisione non è un fatto etico dice Lenin non è un fatto astratto di astratta giustizia è perché è indispensabile per unire il proletariato così come la battaglia contro l'oppressione maschilista è indispensabile per unire le due parti in cui si compone il proletariato uomini e donne LGBT eccetera così la sostenere la lotta per l'autodecisione o autodeterminazione è indispensabile per unire il proletariato del paese che opprime col paese oppressore perché altrimenti dice lasceremo libero spazio nel paese oppressore alla borghesia che opprime e nel paese oppresso alla borghesia nazionalista che invece noi dobbiamo in qualche modo riuscire a scalzare ma come? costruendo un'altra direzione eccetera eccetera gli obiettivi democratici sono parte del programma transitorio Trotsky scrive in un testo importante il confusionismo settario il diritto all'autodeterminazione nazionale è naturalmente un principio democratico e non socialista ma i principi autenticamente democratici sono sostenuti e realizzati nella nostra epoca solo dal proletariato rivoluzionario e anche per questa ragione che essi sono così strettamente intrecciati con i fini socialisti questo è un concetto chiave della rivoluzione permanente è un concetto chiave della rivoluzione e del programma di transizione noi non vediamo delle tappe distinte noi vediamo un intreccio un intreccio fra i compiti democratici i compiti transitori i compiti socialisti come sosteniamo però le rivendicazioni democratiche in questo caso quella dell'autodecisione con il nostro programma ma non ponendo il nostro programma come precondizione altrimenti torniamo al cortocircuito di prima cioè se io dico sostengo la lotta di questo popolo per la sua autodecisione solo se assume il mio programma non assumerà mai il mio programma perché io starò fuori da quella lotta non so se è chiaro un cortocircuito il cane che si muove la coda non assumendo come precondizione il tipo di direzione fa lo stesso motivo di prima noi certo vogliamo costruire una direzione rivoluzionaria certo ma se non partecipiamo a quella lotta sarà sarà una battaglia come dire che oggi potremmo dire si fa sui blog eccetera con quelli che scrivono lunghi articoli che legano tre persone come questa è la cosa che bisogna fare eccetera eccetera il problema è che non è così che si costruisce un'altra direzione si costruisce intervenendo dentro la lotta eccetera rivendicando che sia la classe operaia apporsi alla testa di questa lotta con i suoi metodi con il suo programma con il suo partito eccetera c'è un falso alcuni falsi argomenti , li cito rapidissimamente sto concludendo contro questa teoria di Lenin di Marx eccetera il primo è quello di chi dice ma noi marxisti siamo per la centralizzazione degli stati non per la balcanizzazione o rottura degli stati perché? perché dal punto di vista economico è più progressivo e questo è un fatto vero ma è una mezza verità noi non siamo per il frazionamento certo ma siamo per la libera unione dei popoli lo devono decidere loro non gli può essere imposto e noi siamo per l'unione tanto che noi diciamo Stati Uniti Socialisti d'Europa Stati Uniti Socialisti in prospettiva dell'Africa dell'Asia del mondo intero dei Balcani del mondo intero certo ma come libera scelta tanto che la rivoluzione d'ottobre non impose a differenza di quello che poi fece lo stalinismo una prigione entro qui richiudere tutti i popoli dell'Unione Sovietica e non a caso Putin polemizza con la posizione dei bolshevichi e di Lenin e invece apprezza molto quella di Stalin che gli ricorda assolutamente la sua che è quella di costruire di nuovo una grande Russia eccetera eccetera seconda obiezione noi siamo internazionalisti nostro patria il mondo intero eccetera eccetera sì chiaro anche qui mezza verità il problema è che se vuoi essere realmente internazionalista e non semplicemente scrivere questa fesseria diciamo su un blog o in un articolo eccetera devi sostenere il nazionalismo dell'oppresso contro il nazionalismo dell'oppressore senza per questo essere noi nazionalisti noi siamo internazionalisti certo così come sosteniamo qualsiasi altra lotta democratica con quale fine con quello di unire la lotta per l'obiettivo democratico a una prospettiva socialista altrimenti è pura astrazione è separare le lotte di oggi dalla futuro radioso socialista di domani ma mai è stato così nella storia sono due processi che si intrecciano tanto che Lenin dice da qualche parte in uno dei testi forse che mi ha messo in aeropuscolo la rivoluzione socialista può partire anche da una lotta minimale da una lotta per rivendicazioni democratiche eccetera persino da uno scandalo politico come fu il caso l'ide antisemita di inizi secolo ovviamente in questo momento mi sfugge la parola ma qua mi ritornerà in mente Dreyfus Dreyfus il caso Dreyfus anche da quello che non è forse la lotta per la rivoluzione socialista può partire un processo di lotta eccetera eccetera terza obiezione che viene mossa alla nostra posizione la posizione degli lenisti è quella di chi da presunte posizioni marxiste eccetera è quella di chi dice oscura la lotta di classe se uno sostiene la lotta nazionale poi non fa la lotta di classe questa obiezione badate era detta anche da una rivoluzionaria intelligente come Rosa Luxemburg però è una caricatura in parte del marxismo questa cosa qua perché riduce tutto torniamo al discorso di prima alla lotta di classe come se la lotta di classe non fosse anche la lotta contro le oppressioni nazionali di sesso eccetera ma fosse solo la lotta sindacale la lotta economica questo non ha niente a che fare con il marxismo riassunto dei criteri di Lenin e Trotsky basati su Marx quattro punti uno la rivoluzione socialista non è un'unica battaglia ma battaglie di diversa natura che si intrecciano per questo sostiene la questione nazionale due i compiti democratici non possono essere risolti dalla borghesia nazionale per questo possono diventare la scintilla che mina lo status quo e per questo i rivoluzionali vi intervengono tre è una battaglia imprescindibile per unire la classe perché altrimenti la classe è divisa così come è divisa fra uomini e donne è divisa fra irlandesi e inglesi e così via quattro ci interveniamo con il nostro programma per costruire un'altra direzione questo qui per dire in sintesi la posizione io qua ho concluso su questi primi due punti come detto adesso discuteremo questa è l'ipotesi di questa cosa di questi temi qua mentre del tema più specifico dell'Ucraina discuteremo della guerra attuale in Ucraina discuteremo oggi pomeriggio un'altra direzione